Il Movimento 5 Stelle è il vero vincitore di queste elezioni politiche che daranno vita alla diciottesima legislatura repubblicana. Da solo il Movimento fondato da Beppe Grillo e che ha come candidato premier Luigi Di Maio ha conquistato il 33% dei voti a livello nazionale facendo strike al centro e al sud, lasciando agli altri partiti le briciole. Seconda battuta ha trionfato la Lega di Matteo Salvini capaci di raccogliere il 18% sfondando al sud e nelle isole e soprattutto superando nella corsa interna Forza Italia di Silvio Berlusconi che a questo punto ha perso la leadership della coalizione centrodestra. Ma il vero sconfitto è Matteo Renzi che vede il PD ai minimi storici con il 18% che lo rende ininfluente per qualsiasi coalizione. Per il partito che ha guidato il governo negli ultimi cinque anni una debacle temuta ma inimmaginabile alla vigilia e che non si può giustificare solo con la fuoriuscita degli esponenti che hanno dato vita a libri uguali il cui risultato elettorale è stato al di sotto delle attese. Una litigiosità continua, errori gravi da parte del segretario Renzi, l'astio che ha suscitato all'interno del partito e nel paese ne hanno decretato la sconfitta e forse la fine politica. Risultati economici positivi dell'ultimo anno non sono bastati ad arginare la voglia degli italiani di cambiare la scelta di premiare il Movimento 5 Stelle e la Lega va in quella direzione. In democrazia i voti si contano e dalle urne del 4 marzo il verdetto che è uscito è chiaro. hanno vinto le forze politiche che hanno fatto opposizione dura e pura al governo e che ora hanno il dovere di provare a prendere il testimone dalla guida del paese. Non sarà semplice per il Presidente Sergio Mattarella sciogliere il rebus politico perché al momento nessuna coalizione, neanche quella di centrodestra, ha i numeri per governare da solo essendosi fermata al 37%. L'unica alleanza che consentirebbe domani di fare il governo è quella tra 5 Stelle e Lega che hanno i numeri per farlo e punti programmatici comuni. Ma è presto per parlare di governi e alleanze. Quello che è certo è che il voto di ieri ha posto fine alla Seconda Repubblica, quella nata dopo Tangentopoli e dato via alla terza.